I bravissimi ragazzi del Centro Danza Performance, non induciate gente, iscrivete i vostri ragazzi al Centro Danza Performance, moderna, classica, tempo contemporanea, hip hop, ma l'obiettivo principale soprattutto è quello di formare giovani danzatori che domani potranno diventare anche importanti nel campo dell'arte della danza a livello anche nazionale, come è già successo. Allora abbiamo parlato di amore e adesso c'è un'atmosfera d'amore che si viene a creare, sai perché? Perché seguiamo a sentire il brano musicale, anzi due, è sempre in spagnolo. E quindi dovresti essere tu ad annunciare questi brani? Ma non mi hai detto di annunciare, annunciare tu. Amado Mio e Besame Mucho, un mix musical in spagnolo, cantato da Francisca Simeone Simeone, dal maestro Antonio Continos e dal director di orchestra di tastiera musicale, Francesco Isos. Vamos muchacha! Aiaaa! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.